Cosa ti manca? Cosa stai? Cosa ti segui? Se non lo sai, nella tua corsa mi segui, forse sarebbe meglio così. Ma se affermi un'idea che ti apre la vita, che non tieni con te, vorrei segui, lasci, risale, troverai, quanti cadono giù. Ma se affermi un'idea che ti apre la vita, 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 che ti apre la vita. Ma se affermi un'idea che ti apre la vita, 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 che ti apre la vita. Si può dare di più, perché dentro di noi, si può dare di più, senza essere noi. Come fare? Come fare? Non so. Non lo sai neanche tu, ma di certo non si può dare di più. E se affermi un'idea che ti apre la vita, che ti apre la vita, che ti apre la vita. Non so. Non so. Uno. 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 很好. Uno.